Fabrizio, doppietta pesantissima, sei stato molto freddo dal dischetto, quanto conta questa vittoria? Conta tantissimo, venivamo da un momento comunque positivo, avevamo perso la partita con la Sampdoria però comunque venivamo da tanti risultati utili consecutivi, era importantissimo vincere, fare la partita dare un cambio di rotta e penso che ci sia stato, c'è stata tanta voglia di mostrare i nostri valori e di prepararci da qua alla fine a fare un grande finale di stagione. Avevi già deciso di tirare quei rigori in quel modo oppure hai cambiato proprio sul dischetto? No, no, mi alleno per calciarli perché comunque in questo momento manca il rigorista che è Pedro gli altri anni mi sono sempre assunto la responsabilità di tirarli, in questo caso non c'era il rigorista che è Pedro mi sono assunto io la responsabilità. Oggi in mezzala sinistra, Fabrizio, nel 3-5-2 del mister, cosa è cambiato rispetto al passato? Magari avete giocato di più la palla? Sì, hanno delle idee diverse, il vecchio mister voleva più aggressione e magari rinunciare un po' più al gioco ma adesso siamo mentalizzati con le idee del nuovo mister, vuole che giochiamo un po' di più e noi eseguiremo quello che ci chiederà. Vittoria è importante come detto ma nel primo tempo non tutto è filato liscio perché il lecco è stato vivo, tanti episodi però bisognava fare più attenzione magari in fase difensiva. Certo, comunque abbiamo avuto pochi giorni per lavorare e preparare la partita, sono due modi di giocare completamente diversi, quindi non era facile però ci abbiamo messo il massimo impegno e alla fine l'abbiamo portato a casa. Fabrizio, tu sei un giocatore molto importante per la Serie B ma questa è stata una stagione particolare per te, sono successe tante cose, quanta voglia hai di riscatto? Tu che ormai sei un veterano perché ne hai viste di tutti i colori qui ad Ascoli, potrebbe essere questa doppietta uno switch per chiudere al meglio? Questa stagione qua è stata una stagione particolare, è stata la prima stagione dove ho avuto un grosso problema fisico che purtroppo anche nella prima parte di stagione prima che mi operassi non ero al 100%, poi sono arrivato a un certo punto che non mi ripeteva più di giocare, ho deciso di operarmi e adesso sto tornando ad avere una condizione fisica decente per fare un grande fiano di stagione per alzare l'asticella che quest'anno non ho alzato ancora. C'è una dedica molto particolare per questa doppietta. La dedica è per mia moglie che sta aspettando la nostra prima figlia e niente, questo qua, la ringrazio e ti amo tantissimo.